Ciao a tutti ragazzi. Benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Lory ASMR. Voi come state? Spero tutto 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 bene. Oggi sono qua per registrare un video tag che si chiama Unconventional Tag. E' stato ideato completamente dalla Greta ASMR che appunto mi ha taggato. E prima di cominciare io a mia volta taggo Luca ASMR e la Bea ASMR. Come potete vedere qua c'è una sedia extra. Perché oggi il tag non lo farò da solo ma me lo verrà a fare direttamente la Greta ASMR. Ed eccola qui. Ciao a tutti. Mi piace troppo questa cosa con gli anelli o me? Perché me dovresti mettere dentro questo? Allora, siccome che io appunto ho taggato Lory, ho deciso di proporvi di venirglielo a fare direttamente a casa. Quindi insomma, spedizione del pago. Esatto. E non è detto che non venga a casa anche di tutti voi che siete stati taggati. State attenti ragazzi. Allora, ci tengo a precisare che Lory non conosce assolutamente nessuna delle domande che gli farò. E credo che sia una cosa carinissima perché lo fanno anche un po' uscire come persona. E quindi avrete sicuramente il piacere. Scoprirete delle cose nuove su di me. Esatto. Le domande sono 18. Sono tante. Sì, secondo me sarà una cosa... Parto forse perché conosciamo tutti, non lo so di Lory. Esatto. Io sono una persona indecisa. Sì, mi sono sentita in dovere di venirlo ad aiutare. E speriamo che, insomma, se riusciamo a rilassarli... Eh, bene. Di sicuro. Intanto qua abbiamo anche qualche aggetto. Sicuramente faremo qualche suono durante il video. Vabbè, lui sicuramente vi riuscirà a fare suoni più. Però, raga, io veramente sono soddisfattissima della sua attrezzatura. Grazie. Sono rimasta anche un po' sbalordita dalla voce di me stessa. Che poi dovreste vedere com'è tutto montato qua. Sì, siamo arrivati in trattore. Cioè, sì, c'era un trattore. Ah, sì, stavi dicendo l'attrezzatura. Ah, è vero. Che è montata in modo spartano. Io so dietro delle... No, come si dice? Io so dietro le quinte di Lory. E vi garantisco che solo sentirlo così... E sono qua con lui, sono strada inlassata. Comunque, visto che sarà un video molto molto lungo... Partiamo subito con le domande. Sei pronto? Io, sono carico. Allora, Lory. Qual è la prima cosa che pensi quando ti svegli al mattino? Terrore, zanima. No, sì, sì, se ce l'ho. Al sogno che ho fatto. Ah, sì? Credo. Sì. Cioè, tipo, mi sveglio e dico... Oddio, ma cosa ho sognato stanotte? Ti ricordi, normalmente? Cioè, appena mi sveglio, sì, poi dopo svanisce. Allora, la parte 2 della domanda... E se non penso a questo, penso... Tipo, che due scatole? Per non dire altro. Perché non ci vuol di far niente. Ok. Allora, domanda numero 2. Tu, tu, tu. Hai mai odiato così tanto qualcuno? Da a curarle del male o a curargli del male? Beh, mi piacerebbe dire di no. Però, sicuramente ci sono state delle persone che... Non ho tollerato nella mia vita. Però... Cioè... Mali minori, possiamo dire. Però, insomma, malignità. Sì, ho un po' di malignità all'interno del mio cuore. Cioè... Apprezzabile, perché normalmente tutti direbbero... No, assolutamente. Vabbè, alla fine tutti odiano qualcuno, no? Però... Ci tengo a precisare... Che... Sto cercando di adottare uno stile di vita all'insegna... Cioè, contro l'odio. E quindi... Piuttosto ignora. Che non è male, perché alla fine... Se ignori fai ancora peggio, secondo me... Comunque, se una persona viene... Non considerata... Ci rimane anche molto... In che senso? Cioè, se... Ah, che gli fai un dispetto a questa persona. Sì, mi fai un super dispetto, secondo me. E ce ne sono tante. Domanda numero tre. Credi nella vita dopo la morte? Wow, bellissima questa domanda. Io non so più quello che c'è al nostro tag. E non lo so. Nel senso che... Mi piace pensare che ci sia qualcosa. Però allo stesso tempo... Non penso. Però allo stesso tempo... Penso che magari... Cioè, non ne ho idea, praticamente. Però è una cosa che mi intriga, ecco. Però... Non lo so. Non lo so. Ma il primo non lo so. Domanda numero quattro. Pensi che ogni cosa sia già stata scritta? Wow. Cioè, che sia già tutto scritto? Sì, che sia già, diciamo, un destino che ti aspetta. No. No. Però penso che se una cosa deve succedere... Succede. Cioè, credo, diciamo... Negli avvenimenti, no? Succede l'una dietro l'altra. Sì, esatto. Però a volte... Sì. Penso anche che... Cioè, se non fossi arrivato qui... Nel modo in cui ci sono arrivato... Probabilmente ci sarei arrivato in un altro modo. Ok. Quindi di base in cui ci sareste arrivato. Cioè, questo è un esempio generico riferito al fatto che, secondo me, se una cosa deve succedere o non succede. Ok. Sì, sì, il senso è quello. Cioè, la cosa non cade. No, secondo me ha senso, invece. Cioè, la cosa non cade, punto. Esatto. Cioè, può essere diverso l'avvenimento in cui accade. Però... Allora ci credi, praticamente? Né. Sì, diciamo... Né. Dipende dai giorni. Non è detto che io non metterò in difficoltà l'odio. Sono già in difficoltà. Però vabbè. Allora... Allora, domanda numero cinque. Credi nella legge di positività? Ovvero, nella legge di positività? Cioè, insomma, se tu sei positivo o parti positivo, che ti torna indietro positività? Questa è dura, ragazzi. Perché io sono... Cioè, io sono tipo la persona più lunatica del mondo. E quando sono... Quando sono positivo, sono super positivo. E quando sono negativo, sono... Cioè, qualsiasi cosa succeda, sta andando tutto male, no? Quindi, in generale, no, non ci credo. Ok. Però mi piace crederci. E... Mi piace pensarlo. E anche se non è così, anche se magari non è una cosa vera e reale, è bello pensare che se comunque tu ti impegni e sei positivo e ci credi nelle cose, poi dopo ti tornano indietro, capito? E in un certo senso, qua mi ricollego al karma, perché io credo... Diciamo a grandi linee nel karma, cioè penso che comunque... Prima o poi il bene che fai ti ritorni indietro, quindi in sostanza ci credo, penso... Alla fine sì, diciamo che non parti con le migliori delle... Ah beh, questo è anche un... Cioè, un... come dire... Quando ti studi, studi te stesso. Sì, esatto. E quindi dici... Sì, la risposta è questa, però pensandoci... Esatto, cioè io devo dire che sono una persona che mi psiconalizzo tutto da solo. Cioè, quindi ci sta che tu parti con la risposta e poi... E penso che sia una cosa importante analizzarsi senza giudicarsi, cioè per capirsi, no? È importante. Poi io non mi capisco, ero d'altro. Non ti capisci. Ci provo ora. Domanda numero sei. Sono troppo avanti magari. Allora, credi nell'amore eterno? Non ha risposto il no, comunque come ci sto pensando. Non ho capito, non ho senso. Diciamo che nel mondo in cui viviamo oggi... Non lo so, onestamente. Non lo sai? Non lo so. Perché le persone non sono più sincere. Cioè, è bello crederci, però... Allo stesso tempo, rimanendo un attimo reali con i piedi per terra... Sì. È difficile, è raro, però... Ci sono dei casi in cui è reale questa cosa ed è molto bello. Diciamo che l'amore eterno è un po' come il principe azzurro. Sì. Perché non vi venite a dire che voi non pensate che lui sia il principe azzurro. Certo, perché io credo, vedendo i suoi commenti, quelli che li lasciate, che comunque sia... Cioè, tu sei il tipico ragazzo carino, bravo, buono, principale azzurro, insomma, quindi esiste. Quindi... In questo caso. Secondo me in realtà esiste. Io inizio sempre così, inizio che piccolo, e poi dopo... È il tag ribaldato questo. No, però in realtà... In realtà esiste, dai, secondo me. Cioè, però, ecco, esiste, ma è molto difficile da guardare. Sì. Ecco, ok, ok, ci sta, ci sta. Domanda numero sette. C'è qualcosa che hai fatto di cui non vai fiero? Ok, allora, faccio finta di saperlo, ma in realtà siamo stati tipo... Come lo dico, Dan, siamo stati tipo cinque minuti in cui io contemplavo il vuoto e pensavo a una cosa che posso dire davanti alla telecamera, no? Cioè, vabbè, vabbè, oddio, non è che sono chissà chi, però, vabbè. Comunque, rispondendo a questa domanda, tiro fuori magari un lato del mio carattere che non mi piace. E soprattutto magari in passato tendevo a volte al pregiudizio, no? Nei confronti di alcune persone che magari non sopportavo, così tendevo magari a puntare il dito, a giudicare. E questa è una cosa che non mi piace neanche un po'. Infatti adesso quando, cioè, se mi capita, no, a livello di processo mentale di avere magari un giudizio su una persona negativo, e poi dopo penso, no. Perché già nel senso, io non lo so quella persona che cosa ha passato nella sua vita, e perché fa quello che sta facendo, e quindi cerco di avere della buona fede, fine. Adesso, però, in passato, tendevo secondo me di più a lasciarmi andare al giudizio. Nei confronti degli altri, fanno quasi tutti. Sì, è una cosa che fanno tutti, ed è una cosa che quando gli altri, per esempio, fanno su di me, non mi piace e non la sopporto, di conseguenza per fare solo io, per fare la stessa cosa a qualcun'altro. Certo. Allora, domanda numero otto. Hai mai partecipato a una seduta spiritica? Oddio, no, però ho partecipato a delle sessioni di meditazione. Ah, sì? Non è la stessa cosa, però non c'entra niente. No, però aspetta, perché era una cosa... Allora, perlascendo il fatto che io adesso, ieri sera per esempio meditato, io a volte medito la sera prima di andare a letto, però quando tipo ero alle medie, ero andato nelle marche con delle persone, diciamo, non faccio nomi, adulte comunque, e non lo so, c'eravamo tutti tipo messi in cerchio in un parco con dei tamburi, e tipo tutti, tutti che meditavamo nello sopporto è stata, cioè io, avendola vissuta a tredici anni, questa cosa è stata abbastanza strano. No, 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 ci sarà come... Però c'è comunque, adesso medito per dire, quindi... Cioè non è una seduta spiritica, ma è una cosa parecchio strana. Ma è stata una cosa, comunque... Ti è rimasta una tua? Sì. Però no, penso di non aver mai partecipato a una seduta spiritica. Ok. Domanda numero nove. Hai mai svelato un segreto? In che senso? Hai mai svelato un segreto che ti hanno raccontato? Che mi hanno raccontato, pensavo un mio segreto. Un segreto che magari io ti racconto e tu mi vai a... Allora, in realtà, sono uno, ma io sono pettegolo. Cioè dire questo, è vero, io sono tipo molto pettegolo e mi piace sapere tutto di tutti. Però sulle cose serie me le tengo abbastanza per me. Domanda numero dieci. Siamo già a metà? Eh, vabbè, c'è un po' più di metà. No, ma se sto aggiustando. Ok, domanda numero dieci, quindi... Se vedi un carro funebre, fai già questi scaramantizi, Lori. Allora, io sono una persona... Sono un sacco interessata. Io sono una persona scaramantica. Ok. Però a metà, cioè, a volte sì, a volte no, dipende da come mi sveglio quel giorno. Però ultimamente no, però in passato lo facevo sempre. Però sì, in queste cose un po' ci credo. Quindi fai qualcosa quando passa il carro? Ah no? Cioè, adesso no, perché non ne vedo quasi mai. Però tipo, io non sapevo quel carro funebre, sapevo tipo quando passa l'ambulanza. Ah, è vero, è vero, è vero. Anche l'ambulanza, l'avevo calcolata, l'ambulanza. Sto parlando un po' veloce, scusate. Comunque, diciamo... Sì. C'è l'ambulanza, c'è l'ambulanza. C'è l'ambulanza. Ti fai il segno della croce quando entri in chiesa? Non entro in chiesa. Ah, non ci fai, tu in chiesa mai? Sì, non vado in chiesa. Ma nemmeno magari per... Tipo, ma che io vado a vedere come si è bella, cioè... Ah. Cioè, magari per curiosità... Ho capito, sì. Hai tipo, per esempio, il Vaticano, cioè... No, il Vaticano non ci fai. Sì, vabbè, ecco, non credo che si possa entrare. La chiesa della Cattolica di... Fatti ci sentire. La chiesa della Cattolica di San Pietro, scusate, volevo dire quello. Ma comunque... È la Cattolica. Sai che c'è una chiesa bellissima, c'entri dentro per visitarla, no? Onestamente non mi ricordo perché è da tanto che non ci vado, però... Secondo me, per rispetto più che perché ci credo io, lo faccio. Però forse non sempre, perché onestamente non mi ricordo. Ok. Una cosa che c'è anche... All'occorrenza, impreghi? Ah, io tantissimo. Ah, io tantissimo. Cioè, per me... Ma impreghi vuol dire dire le parolacce? Sì. Ce n'è una in particolare che... Cioè, io le parolacce su YouTube non le dico perché ho paura che mi blocchino i video. Ti può succedere. Però, ce n'è una in particolare che io lo uso quasi come intercalare. So che non va bene, però... Sì, ne dico abbastanza. Imprega, imprega. Domanda numero 13. Vorresti sapere quando morirai? Sì. Davvero? Sì, sì. Wow. Se potessi saperlo io lo vorrei sapere adesso. Wow. Troppo buono. Io no, perché io, come già dirò, lo dicevo... Ah, perché... Come ho detto nel mio video, sai, YouTube per me non sarebbe via vita. Nel senso che penserai solo a quel momento. Però io lo vorrei sapere. Lo vorresti sapere. Sì. Cioè, perché tipo, non lo so. Io lo vorrei sapere. Se potessi saperlo. Vedi, però sono davanti abbastanza specifiche. Io, per esempio, no. Sì, sono due persone completamente diverse in questo caso. Allora, domanda numero 14. Hai fissato con la lettura dell'oroscopo? Il tuo oroscopo? In realtà no, per niente. Cioè, mi fanno ridere, diciamo, i meme su Instagram, tipo dei segni zodiacali. Per esempio, io sono leone. E quelli del leone, principalmente, dicono che siamo ecocentrici, eccetera. Che è un po' è vero. E mi fanno ridere quelli. E a volte magari li leggo. Raramente. Cioè, tipo... Cioè, non l'ho fatto mai a cercare io. Se mi compare, lo leggo. E ne tengo anche conto. E non sai tu che se vedi il giornale, vai alla pagina, non te ne frega niente. Se è aperta, ci butti anche sulle zone. Ok, quindi... Ok. Domanda numero 15. L'abito falmonaco? Me la devi spiegare. Dunque, l'abito falmonaco, nel senso che... Se sei uno... Passami il termine. Uno strazione non ti prende in considerazione nessuno. Specialmente sul lavoro. Cioè, comunque, se ti presenti in una certa maniera, vieni considerato. Ah, ok. Quindi l'abito falmonaco, oppure non so, anche tu se vedi... Secondo me sì, nel senso che nel mondo in cui viviamo oggi, il modo in cui ti poni, la tua... Cioè, come si dice, il tuo aspetto, no? Conta molto, soprattutto in certi ambiti, però... Secondo me anche proprio nel mondo del lavoro, quando vai a fare un colloquio, cioè ci guardano, anche per dire solo le mani, chi mi mangia le unghie, è una cosa a cui guardano. Soprattutto. Cioè, non le mani, però soprattutto le mani del lavoro. Però questa cosa è... Però sì, secondo me è una cosa che... Cioè, però... È una cosa... In generale, no? Sì. Non che penso io. No, no, no. Assolutamente. Cioè, io penso che... È una cosa che... Cioè, ci guardano, non so. Sì. Cioè, senti quel... Maglione che fa rumori bellissimi. Allora, domanda numero 16. Ho già la risposta. Questo l'ho portato direttamente da... Wow. Domanda numero 16. Vorresti sapere un particolesso su di te? Oh, chiaro. Chiaro. Ma io li voglio sapere tutti. Domanda numero 17. Che è anche la penultima domanda. Qual è il tuo guilty pleasure? Inteso come una cosa che comunque tu fai. Abitualmente sai che è vista... Strana. Strana, esatto. Degli altri. E quindi non lo dici. Allora, all'inizio, cioè tipo un anno fa, due anni fa anche, il mio guilty pleasure era... La ASMR proprio. Ok. Perché era una cosa che proprio... Cioè, come adesso, non mi piace molto, però... So che è un po' strano, di conseguenza mi vergognavo un pelino a dirlo in giro. E invece adesso, al momento, secondo me, non ho guilty pleasure perché... Da quello, comunque, lo ha... Adesso, per tu, mamma, lui... Cioè, sono arrivato a un punto della mia vita in cui ho capito che tutti hanno le proprie stranezze e non ci dobbiamo vergognare tenendole per noi. E quindi... Cioè, se una cosa adesso mi piace, non voglio vergognarmi del fatto che quella cosa mi piace. No. Certo. Non so come dire, quindi... E quindi, niente, cioè, in realtà... Di qua andiamo poi sul discorso del pregiudizio. Cioè, qua a volte ci sono cose che sei costretto a non dire. Esatto. Perché? Cioè... Però, insomma, sto cercando... Di fare quello che mi piace senza... Cioè, fregandomene... Anche nel modo di vestirmi, no? Fregandomene di quello che... Secondo me sei il tiroso. Grazie. Cioè... Sì, solo la prima volta che ho visto si è presentato con una sciarpa. Sì, sì, lunghissimo. Una sciarpa preferita. Mi ha detto, mi riconosci, mi riconosce. È tutto colorato. È vero. E niente, quindi... Anche voi non vergognatevi delle cose che vi piacciono. Anzi, andatene fieri. Perché fanno parte anche di voi, no? Esatto, esatto. Siamo arrivati all'ultima domanda. Che probabilmente è la più tranquilla di tutto. Quindi, ok. Stai tranquillissimo. Pensi di essere una brava persona? Cioè, nel senso, non mi sento di dire di sì. Perché tutti abbiamo delle cose che secondo me possiamo migliorare. E anche io, però, penso di essere una brava persona. Però, sono in fase di miglioramento. Ah, quindi sempre... Cioè, sto cercando di migliorarmi come persona. Quindi sei il lavoro in corso. Sono il lavoro in corso. Però, però non mi sento di essere una cattiva persona, ecco. Ognuno poi ha il suo lato un po' bad guy, diciamo. Ma certo. No, secondo me... Se posso fare la domanda parallela, no. È impossibile, cioè. No, non è. Grazie. No, davvero. Niente, quindi abbiamo finito il tag. Grazie di avermi ospitato a casa tua. Grazie per avermi fatto queste domande che hanno soddisfatto il mio ecocentrismo. Sono contenta. Sono contenta. Beh, non è il solito banalotto, no. No, infatti sono molto bella su un colore preferito. Esatto. A me sono piaciuto parecchio, devo dire. Bene, sono contenta. Spero che lo gradirete anche... Soprattutto. Praticamente quelli che verranno attaccati da lui e quelli che verranno attaccati da me. E se si diffonde il verbo... Bene, sono contenta. Se no, noi l'abbiamo fatto. Li saluti. Li saluti. Vabbè, sì, adesso salutiamo la sua chiusura. Vabbè, puoi fare la chiusura anche con me se vuoi. Vediamo se stiamo ancora registrando. Ok. Allora ragazzi, vi salutiamo. E... Cioè, io non sono sicuro di questa cosa. Cosa? Però scusa, adesso stiamo per fare un altro video, no? Sì, se ti fassi. Esatto. E questo video andrà sul suo canale. Sì. Ah, aspetta, non abbiamo detto una cosa. Qui abbiamo tutto lo sfondo natalissimo. È vero. Chi se ne frega. Allora, noi stiamo... Eh. Noi stiamo registrando questo video ora. Perché avevamo tempo di vederci ora. E comunque le lucine, ragazzi. Benvenga. No, ma io non ci ho pensato. Mi dispiace. Ci mettevamo di qua con le tende arancione. Ma è fighissimo il dietro. Questo tag uscirà dopo Natale. Ovviamente lo sfondo di Lori è ancora natalissimo. Perciò le lucine sono belle. Alla fine ce le abbiamo tutte. A Natale è dappertutto per tutto l'anno. Quelli che fanno questi video. Va bene, dai. Perciò questo video avrà sfondo natalissimo. Ma uscirà dopo Natale. Io sì, ma c'è problema. E uscirà dopo Natale. Dovete sapere che lui si preoccupa per tutto. Ma alla fine non ha da preoccuparsi per niente. Ragazzi, lei mi ha detto... Ma mi sembra una persona così calma, così calma. Se l'ansia fosse una persona sarebbe io, ragazzi. Io sono l'ansia. Io sono tenuto tantissimo a conoscerla dal vero. Perché davvero, dicevo, non è possibile. Infatti, non so se posso dirlo. Perché nel mio tag... No, no, nel mio tag. Perché... No, vabbè, lo riprendono tanto. Io l'avrò già pubblicato. Quando tu pubblicherai... E nel mio tag dicevo... Non sapevo se avrei avuto modo. Perché gliel'ho proposto dopo. Dicevo, ti prego, Lori. Fai questo tag. Perché secondo me tu sei la burrezza. Almeno, insomma... No, totalmente. No, invece no. Però... Come un po' tutto. Cioè, è una persona normalissima, insomma. Sono una persona proprio normale. Non so cosa pensate di lui, ma... Cioè, veramente... Io personalmente ci tenevo avuto l'opportunità, quindi... Mi invitano. Comunque ci tengo. Nei commenti fatemi sapere... Se vi faccio alcune anche vostre risposte... A domande che vi hanno colpito. O cosa ne pensate delle mie risposte. Insomma, sono curioso. Voi se siete creator e non vi abbiamo attaccati a farlo... Esatto. Come ho detto nel mio video... Mi raccomando, dite che... Cioè, almeno l'ho inventato io. Perché sennò vengo a farvi il mallocchio. Esatto. E quindi, niente. Ah, niente. Aspetta, quello che stiamo dicendo è che... Sì, scusate. Facciamo un altro video, penso. Che uscirà però sul suo dinamale. E è un video dove io provo a rilassarlo. Ok, sì. Quindi, se volete ammattelo a vedere... E faccio uno spoiler... Ci riuscirà. Anche se non l'abbiamo ancora registrata. Beh. Allora... Vi salutiamo. Sì, ci ha fatto. Oh, a me piace troppo questo suono. Aspetta, allora, li aspetta sento qua. Oh, mi piaccia un sacco. Buonanotte, ragazzi. Buonanotte. 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 Buonanotte.